Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta 1900-1960 è il titolo della mostra visibile nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte fino a 15 ottobre che espone scatole e targhe caratterizzate dai nomi delle aziende e delle città che in poco più di un secolo hanno reso famoso il Piemonte a livello internazionale. Inaugurazione lunedì 28 luglio alla Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino dell'ottava mostra d'arte figurativa e astratta racconta il tuo Piemonte attraverso la storia, la letteratura, le sue bellezze architettoniche promossa dalla sezione arti visive della Regione Piemonte. La rassegna sarà visibile fino al 3 settembre.